1985 è una canzone di cui parlavo dell'Asia, un continente che continua a farci paura anche se a volte noi ci sentiamo protetti nel nostro limbo cosiddetto occidentale anche se le guerre le vediamo soltanto in televisione, al cinema, al telegiornale però comunque l'Asia continua a darci un senso di paura, Siria, Libano, Israele, Palestina, Iraq, Iran, Afghanistan e via via sempre più a est fino alle Filippine, è un continente che continua a farci paura, Asia Grazie 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 Grazie